No, no, non volemo niente, non ci serve niente. Prego, bella signora, compra qualcosa, compra. Se vuoi far entrare, prego, che fuori piove. Coca entra pure, prego, ma con noi altri perdi tempo. Tu sta casa, trovi una lira, manco si butti tutta l'aria. Tu, bella signora, tu, compra, compra qualcosa. Caffeti, case, accendini, nanzoli, nanzoli, compra, bella signora. Tu, Coca, stamattina hai sbagliato proprio ogni cosa. Con tutte le parti giuste che c'erano da bussè, hai scelto proprio la più disgrazietta. Ma io, essere da poco in Italia, mia famiglia tutta qua. Se io non vendere, non comprare niente per mangiare, per me e per mia famiglia. Noi, capire tutto. Ma noi, non poterete aiutare. Noi, come te, non avere niente, ma niente da dar da mangiare ai nostri figli, ai nostri mariti e a noi stesse. E anche noi, come te, a vendere, vendere, vendere tutto. Benzoli, coperte, caposti, loro, loro, l'argento, oh, e anche qualche mobile. Noi, avere venduto tutto. Ah, allora voi più bravi di me, l'ho venduto loro. Poi, insegnarmi, come fare per vendere tutto. Cocca, questa è l'arte, è meglio che te l'amperi. E la, anzi, per essere più precisi, è meglio che nessuno se l'imparasse. Questa è l'arte di vivere la giornata. Te mangi oggi, e adesso appena quando si potrà farlo. Se te vuoi riposè, riposete pure. Ma be qui, coca, c'è poco da vendere e tanto meno da comprare. Di, bello della mamma, cerca di farla facci col tuo babbo. Digni chi è venuto a cercarlo, falo per la tua mamma. Non sai che tanto dispiaciuto per quello che è successo. Dai, digni, che giù. Scusate, eh, si ve lascio, ma una donna anch'essa c'ha sempre qualcosa da fare. Cosa ti chiamo? Io non mi chiamo. Sono gli altri che mi chiamano. Io mi chiamo Karima. Quanto costano questi cazzini? Un paio, 500 lire. Tre paio, 1000 lire. Allora io compro tre paio a 1000 lire. Tu avrai soldi? No, ma io compro tre paio a 1000 lire e poi te li rivendo a 500 l'uno. Se tu che devi a vendere? 500. Hai soldi? No. E allora come fai a vendere? Ma per vendere non occorrono soldi. Soldi occorrono per comprare. Allora questa è la roba o l'hai avuta regalata o l'hai rubata. No, no, io ho comprato. Ma si è detto che non avevi soldi. No, no, soldi ora. Ma ti avevo quando ho comprato roba, eh? Ma che necessità avevi di comprare la roba e rivenderla e fare i soldi? Se i soldi ce li avevi? Ma insomma, tu cosa volete da me? Niente. Io volevo solo capire qualcosa. E qualcosa ho capito di sicuro. Che non ho capito niente. Ma manco tu mi sa che hai capito tanto. E fame? Anche tanta. Ti piace il brodo di galina? Ah, certo! Ieri sera nessuno dei miei paletti l'ha voluto. tutti cercavano l'uovo che non c'era. Allora io adesso lo do a te. finito? Non devo più? Pensate alla fame? No, io avere ancora tanta fame. ma pensare che non è giusto che mangio solo io. Ti spiace se porto il resto in mia famiglia? No, no. Porta pure. Prendi, piccolo regalo per te. No, grazie. Tu queste calze devi venderle per fare i soldi. Io ho dato a te di cuore da amico. E amico non ci paga. Ma ad amico ti può fare regalo. Prendi amico. Grazie.